Si chiama Quotacento la bomba più pericolosa del 2019 guardata con attenzione dalle forze dell'ordine in questi giorni di controlli per i botti illegali. Una grossa cipolla esplosiva con oltre 800 grammi di polvere pirica capace di provocare danni devastanti. Così questa mattina l'appuntato scelto dei carabinieri del gruppo artificieri Michele Landi in occasione della conferenza stampa di fine anno del comando provinciale dei carabinieri. I classici sono la classica cipolla, pallone di Maradona e ultimamente va di voga il Quotacento. In effetti i realizzatori di questi prodotti prendono spunti dal momento di chi è il personaggio del momento dell'anno e quindi quest'anno hanno preso Quotacento. Ma non sono altro che degli ordigni esplosivi che assolutamente non vanno né utilizzati ma soprattutto non vanno utilizzati dopo che essi non sono esplosi. Che potenza ha la Quotacento? Che danni può provocare? È devastante perché lei immagina che un prodotto del genere può portare via una mano, un Quotacento parliamo e all'interno contiene sì e no una decina di grammi, Quotacento comincia ad avere 700-800 grammi di questi miscugli esplodenti che poi diventano esplosivi e quindi diventa devastante. L'appello fondamentale è quello di non comprarli, è la cosa fondamentale. Nel momento in cui vediamo utilizzare qualcuno che utilizza questi prodotti allontaniamoci il più possibile. Nel momento in cui troviamo, dovessimo trovare a terra di questi prodotti inesplosi assolutamente di non toccarli perché anche il semplice prenderli in mani e tentare di aprirli e se possono esplodere ma soprattutto non tentarli di andarli a riaccendere. Non a caso ogni anno i maggiori danni li incominciamo ad avere dal primo gennaio in poi proprio per questa tipologia di prodotti che sono inesplosi. Dai controlli e dai sequestri che avete effettuato, questi ordigni prevalentemente sono stati confezionati in casa o in altri luoghi? Beh, diciamo questo diventa un po' difficile riscontrarlo ma gran parte vengono confezionate in casa o persone che hanno esperienza in ambito della pirotecnia e quindi poi dopo si recuperano questi prodotti e li vanno a realizzare in casa, cosa pericolosissima.